Bella ragazzi, qua è Ghiotto, la Juventus banca il Benito Sirpe di Frosinone, lì dove solo il Napoli era passato alla prima giornata, quando ancora si diceva il Napoli di Rudi Garcia sembrava carburare bene, invece poi la storia è nota a tutte come è andata a finire, però già mi ricordo che partendo Pai, a parte che c'è il video sul canale di quella partita, faticarono molto in ciocciaria a dimostrazione di un Frosinone che in casa soprattutto sta facendo il suo campionato. Ma questa partita, al di là del risultato, è sicuramente fotografia di quello che è la squadra di Di Francesco, una squadra che gioca a calcio, che propone il suo gioco e che prova ad imporlo al di là dell'avversario, nonostante anche un avvio difficile perché al dodicesimo, signori, incredibile, ha segnato Hildiz, 2005, 18 anni, giocatore che veramente ha fatto vedere delle cose straordinarie, già in nazionale con Montelle, Montella l'ha detto, allenatore un po' vituperato in Italia, però per me Montella è uno che ci sa fare nonostante non mi stia simpaticissimo, stessa cosa posso dire di Di Francesco, l'ha detto, Hildiz è un grande giocatore, infatti, se non ero la prima da titolare, fa un grandissimo gol su errore di impostazione di Turati. Ecco, Turati, io ho un portiere che non mi è mai piaciuto, non è mai entrato nelle mie preferenze, però devo dire che comunque ha fatto un buon campionato, fino adesso. Nelle ultime settimane diversi passaggi a vuoto, perché comunque prendi il gol da centrocampo da Di Marco e qualche colpa ce l'hai. A Lecce un disastro in fase di impostazione, poi soprattutto nelle parate prende un gol su primo palo, anche oggi prende un gol su primo palo, ma soprattutto l'errore più grave, è vero che i portieri adesso sono tanto sollecitati con il gioco con i piedi, fa un altro errore in fase di regia e non è ammissibile, perché qua questa sconfitta purtroppo ce l'ha sulla coscienza di nuovo Turati. Poi Ildic fa un grande gol in mezzo a tre, dormono poi i difensori, è fortunato, è bravo lui, però il gol te lo devi cercare, poi calcia forte sul primo palo e poi tra l'altro Ildic viene anche tolto da Allegri al 54esimo per Vlaovic. Vlaovic ha fatto bene, ma forse meritava anche di giocare, comunque di fare più minuti, di finire la partita, però sarà un cambio poi che sicuramente risulterà il decisivo. Frosinone che dopo il gol preso si è scrollata un po' di dosso la pressione, comunque subire gol all'inizio non è facile per una squadra nettamente inferiore alla Juventus, che però ha dimostrato in campo di testare la manovra meglio, di avere dei giocatori di qualità su tutti i sulle, che oggi forse voleva strafare un po', gli è mancata la stoccata finale, però un grandissimo giocatore, un mancino, ma comunque se imparasse a usare anche un po' più il destro, perché lui ce l'ha, ci prova, ce lo ha nelle corde, questa cosa qua, può diventare veramente un grandissimo calciatore ed è decisivo un altro giocatore del Frosinone che è subentrato per l'infortunato Lirola, Baez, che agli albori della ripresa lancia di Monterisi, grande inserimento con il movimento di sulleva e di rincontro di Baez in verticale e lì esce Malescesni, però è bravo lui, il giocatore subentrato, a tirare il suo primo paro, a fare 1-1, a siglare il suo primo gol in Serie A. Lì la partita sembrava addirittura girare verso i ciociari, perché comunque la Juventus faticava, tutti chiusi dietro, poi i cambi di Allegri, la voglia di Vlaovic, che io ho lasciato in panchina al Fanta, perché ultimamente veramente sta facendo ridere, un gol nelle ultime dieci, i gol sbagliati a Marassi, l'errore dal dischetto che poteva essere fatale a Monza, poi dal calcio d'angolo in acqua il gol di Rabiot, invece Vlaovic stavolta è decisivo, fa addirittura due gol, uno in fuorigioco, ma quello invece che decide questo match è un gol d'attaccante vero, quei gol li facevano di Lucatoni, Miro Close, quindi parliamo di grandi attaccanti, Pazzini, il colpo di testa veramente è arte, deve essere arte per i numeri 9, lui è bravissimo, grande palla di McKennie che ha preso anche un'attraversa clamorosa, che ha fatto una bella partita, perché McKennie comunque ce l'ha, è un giocatore che secondo me può fare di più, ha un po' sottoperformato, è stato molto discontinuo in questi anni alla Juve, mette una grande palla, la colpa dei giocatori del Frosinone di non aver pressato, di non aver provato a intercettare quel cross dello statunitense che è catapultato sulla testa di Vlaovic, che poi è stato bravissimo a collocare la palla lì, lì turati non a colpe, perché lì sale altissimo, oltre Romagnoli e Monterisi, quindi era anche raddoppiata, e poi la piazza sul secondo palo con una pallombella che prima sale, poi scende, incredibile per il portiere della squadra laziale. Quindi, diciamo che la Juve dà una spalata alla classifica, soprattutto per quanto riguarda il secondo posto, perché va a più 7 sul Milan, un Milan che comunque dimostra di non poter tenere il passo, secondo me, delle prime due, e mette pressione all'Inter, che però è una partita non facile, perché Lecce è in forma, sa dire la sua anche in trasferta, e soprattutto mancano Di Marco Lautaro, che non ve lo sto a dire, sono due assenze importantissime. Bene, anche voglio sottolineare l'ingresso di Nicolusi Caviglia, che è un giocatore che sta crescendo, e signori, i ragazzi giovani, solo giocando, possono far vedere le loro qualità, non possiamo sperare che facendo una partita ogni tanto, possano operare bene. Guardate Ealing, Ealing non gioca mai, è entrato oggi malissimo, ha fatto delle cose non a Ealing Junior, anche in fase offensiva, che dovrebbe essere la sua qualità migliore. E due parole sulla Lazio, ieri la partita l'ho vista a Spizzic e Bocconi, comunque abbiamo vinto, due gol un po', diciamo, anche sporchi, però voluti, cercati con cattiveria, da due giocatori che sono un po' gli opposti quest'anno come percorso in campionato, perché Gendosi è sempre stato uno dei migliori, è entrato sia nel primo gol e nel secondo, con quel grande recupero, quindi parliamo forse del giocatore migliore della Lazio quest'anno, o se vogliamo di quelli a cui stati quest'anno, sicuramente quello che ha inciso di più, Zaccani dall'altra parte è un giocatore che sta deludendo, però si sta ritrovando, nelle ultime partite ha ritrovato la vena realizzativa, due infortuni di Immobile e di Luis Alberto, che sicuramente hanno pesato e peseranno, però adesso poi abbiamo lo Frosinone, abbiamo l'Udinese, abbiamo un calendario favorevole, quindi dobbiamo continuare a marciare a sprombattuto, perché siamo in ritardo in classifica, grandissimo Provedel, quella parata su Cambiaghi da vedere e rivedere, meriterebbe anche una convocazione nazionale, ma con titolarità, non una convocazione come al solito, come terzo o quarto portiere, che non serve a nulla, perché si parla tanto di Vicario, vabbè Donnarumma un po' in calo, scusate mi si è spenta una luce, però Provedel secondo me meriterebbe, al pari di Vicario e Donnarumma, di tanti altri, una partita nazionale da titolare, proprio alla carriera, poi magari potrebbe essere anche il portiere futuro della nazionale, però ad oggi Provedel è sicuramente, se non è il migliore il portiere italiano, uno dei tre migliori. Quindi la Lazio ancora che non è guarita, però una vittoria che fa bene, ritrovando alcune piccole certezze, come per esempio Zaccagni, come Camada, che secondo me piano sta carburando, Castelcianos deve sbloccarsi, e se si sbloccherà potrà darci una grossa mano, visto i problemi di immobile, sia fisici, sia proprio come fase realizzativa. Signori, questo è il video, like, seguitemi su Instagram, e buon Natale a tutti, ma magari ci sentiamo anche più tardi. Ciao!